Questo è il retrato della realtà, diciamo la piccola biografia nel migliore dei modi. Quando io vengo a casa la comincio a elaborare, allora ecco che voi vedete che qui le dolomiti sono più massicce di qua, allora io comincio a elaborare questa trasformazione e comincio a creare, ecco allora io qui comincio a dare il piccolo padre eterno, qui è il padre eterno che ha lavorato e io ho copiato e di qua comincio a creare io con la mia personalità, ora per me è molto più dolomitico questo qui che questo qua, però l'importante è sapere disegnare un'architettura, un paesaggio, una cosa, poi dopo sognarlo in modo diverso.